ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video ragazzi oggi andremo a vedere come è fatta una centralina per motori brushless questo nell'esempio è la centralina del mio monopattino elettrico ma potrebbe essere la centralina di qualsiasi mezzo di micromobilità elettrica funzionante a 48 volt perciò il pacco batterie per alimentarlo deve essere un 48 volt 13 s da etichetta cosa leggiamo voltage 48 volt dc perciò corrente continua 48 volt corrente di uscita 21 ampere poi protezione love voltage 39 volt e poi c'è break slow level perciò il freno di basso livello perché come sapete se non lo sapete ve lo dico io le centraline e i motori brushless possono fare anche da freno motore più o meno diciamo presente più o meno pesante per esempio quando accelero nel mio monopattino io ovviamente il freno motore è disabilitato ma dal momento in cui che io lascio l'acceleratore e la centralina se è programmata per frenare in automatico comincerà a fare rallentare il motore brushless andiamo a smontare le viti così da andare a vedere tutto il circuito io ho già smontato qualche giorno fa è fatto anche una modifica o meglio due modifiche o upgrade come vuoi intenderle e ora ti mostro cosa ho fatto nello specifico ok queste sono le viti che mi tengono i mosfet la letta di raffreddamento interna connessa con la scocca in alluminio vado ad estrarre boom ecco qui questa ragazzi miei è una centralina standard perché una standard funzionante a 48 volt esistono centraline più o meno potenti più o meno grandi con più o meno mosfet perché alla fine la potenza di uscita è data dai mosfet più mosfet abbiamo più sarà la potenza per il nostro motore questa è una 500 watt sì da una 500 watt perché il motore che poi ti farò vedere 500 watt e niente abbiamo i mosfet 246 esistono anche centraline con per esempio 9 mosfet o 12 mosfet o 24 mosfet ovviamente ragazzi variando i mosfet varia la grandezza della centralina e la potenza del controller stesso può essere un 800 watt 1000 watt 2000 watt 3000 watt questa centralina stessa puoi trovarla anche nelle bici elettriche può essere anche alimentata a 36 volt 24 volt in base poi al modello del monopattino o della bici elettrica la modifica che ho fatto è numero uno ho sistemato per bene questi due ponticelli che ragazzi questi due ponticelli non sono altro che due tra parentesi sensori che mi misurano la corrente che fluisce nel mio impianto di alimentazione motore facendo questa modifica cioè andando a mettere più stagno nella superficie io permetto che scorra più corrente perciò vado ad avere qualcosa in più come corrente e potenza in uscita in parallelo come upgrade ho aggiunto ancora più stagno alle piazzole queste qui questi ragazzi sono le piazzole di potenza dove appunto scorre tutto tutta la corrente che va al motore più superficie diciamo conduttiva abbiamo più la corrente potrà scorrere liberamente e con un alto livello ecco ora una cosa che io voglio controllare e che tutto sia fatto bene che non ci siano cortocircuiti perché quando vai a aumentare il volume della saldatura stagno può sempre succedere che fai cortocircuito cioè per esempio questa pista la fai toccare con questa o ancora questa si tocca con questa o ancora questa si tocca con questa perché come vedi sono molto 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 vicini e qui devi stare molto molto attento poi comunque andiamo ad analizzare i cavi questi tre cavi vanno al motore sono i cavi di potenza che alimentano le bobine del nostro motore brushless questi sono i sensori del motore brushless che comunicano in tempo reale sempre con la centralina per dirgli appunto in che posizione si trova il nostro motore questo è il cavo di alimentazione totale cioè qui vai a mettergli la batteria al litio 48 volt nello specifico io nel monopattino monto una 13 s con celle 21 700 però in brock work in progress andare a fare una nuova batteria con celle 18 650 credo 35 della samsung per avere ancora più potenza e più autonomia poi i restanti connettori sono i connettori della strumentazione dell'acceleratore del display conta chilometri e il freno la leva del freno l'uscita che va alle luci stop eccetera 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 il tutto comunque come vedi è molto compatta molto piccolina i mosfet hanno un primo dissipatore in alluminio che poi a sua volta si va ad allacciare tramite le vidi qui alla struttura e tutta la struttura stessa fungerata dissipatore e niente ragazzi sotto in descrizione vi lascio qualche link se vuoi acquistare delle nuove centraline sia 48 volt che 36 che 24 volt in varia potenza ci sono le 250 volt 350 volt 500 volt 700 1000 eccetera eccetera il sistema alla fine è sempre questo ciò che varia è la potenza del sistema cioè i mosfet e alcune componenti del circuito ovviamente non puoi andare a caricare tantissima corrente quando hai anche un sistema di controllo che ti limita dalla corrente perché nel vero queste centraline limitano anche un tantino la potenza in uscita comunque questo poi lo potremo vedere se volete scrivilo sotto e fammelo sapere in un prossimo video ti voglio mostrare velocemente anche il motore e il motore brushless che è quello che monta il mio monopattino elettrico eccolo qui questo è il motore questo qui con la ruota a gomma già montata ragazzi è un 500 watt 48 volt questa è la cavetteria come vedi come dicevo prima sono tre i fili di potenza quelli che appunto permettono di alimentare le bobbine del motore e in più ci sono questi che sono quelle dei sensori interni sempre al motore vai a cablare questo e la centralina in automatico ti piloterà il tuo motore ti lascio se vuoi anche sotto in descrizione il link se vuoi acquistare il set completo di ruota dentro c'è anche la camera d'aria e motore eccetera eccetera niente ragazzi per questo video è tutto spero ti sia stato utile di buon gusto interessante di informazione niente un like un commento ciao e al prossimo video grazie a tutti